Ciao a tutti gli appassionati di orologi, ti ho già detto altre volte, Mido secondo me è un marchio molto interessante perché unisce delle caratteristiche di buon livello, ha dei prezzi spesso molto competitivi, oltre al fatto di avere anche tutte le garanzie e tutta la sicurezza che un grande gruppo, un colosso come il gruppo Swatch, alle spalle può dare. Inoltre è anche un marchio storico, per giunta svizzero, due caratteristiche che sicuramente sono molto importanti per alcuni di voi. Da appassionato di Diver non posso non avere un occhio di riguardo per la linea Ocean Star e infatti ne ho già parlato varie volte qui sul canale. Il modello protagonista di questa recensione è stato lanciato per la prima volta nel 2018, verso la fine del 2018, e rappresenta tuttora l'apice della produzione per quanto riguarda il settore degli orologi da immersione di Mido. E infatti anche a distanza di anni continua ad avere delle caratteristiche tecniche da primo della classe, almeno ovviamente nella sua fascia di prezzo. E allora vediamo un po' insieme com'è questo Mido Ocean Star 600 Cronometer. Per questo video dobbiamo ringraziare gli amici dell'orologeria Mayer di Torino per avermi gentilmente prestato l'esemplare oggetto di questa recensione. Sono concessionari ufficiali di tutti i marchi che vedete nella grafica in sovraimpressione e sono abituati ad effettuare spedizioni in tutta Italia. Come al solito sotto in descrizione trovate il link al loro negozio online. La scatola è la solita per Mido, nera con benature tipo legno e logo arancione. All'interno, oltre al classico libretto con le istruzioni per l'uso e alcune informazioni utili sulla garanzia, c'è anche un piccolo opuscolo che sottolinea la certificazione COSC. E poi su questo modello c'è un anno in più di garanzia rispetto al solito e quindi si arriva a una copertura complessiva di tre anni. L'orologio colpisce subito per le dimensioni importanti. Come vi dicevo nell'introduzione, si tratta di un modello presentato nel 2018, ma quest'anno sono state apportate alcune lievi modifiche. La referenza che ho scelto di recensire non è casuale come potrete immaginare ed è quella con quadrante blue soleil. È un blu profondo abbastanza scuro che però risalta in tutto il suo splendore quando viene colpito dalla luce. In alternativa sono disponibili anche la variante con quadrante nero e quella con cassa con rivestimento DLC. A ore 12 c'è il logo applicato e subito sotto c'è la scritta automatic. In basso c'è il nome del modello e la scritta chronometer. Gli indici sono applicati e hanno un design misto che da una parte facilita l'orientamento del quadrante stesso e dall'altra dà anche un tocco di personalità in più. Le cornici sono lucide e il livello di finitura è molto buono. A ore 3 c'è la finestra della data, senza cornice e con disco a sfondo nero. In questo modo non dà troppo nell'occhio e dovrebbe accontentare quelli che non possono fare a meno di questa funzione e anche tutti gli altri che la odiano. Le sfere mantengono lo stesso design già visto sugli altri Ocean Star più moderni, parzialmente scheletrate e con una finitura mista lucida e satinata. Quella dei secondi a lollipop ha un tocco di colore arancione in tinta con la scritta sul quadrante. Le prestazioni al buio sono veramente molto buone. La luminescenza è intensa e anche sufficientemente duratura, con indici, sfere e persino i numeri sulla ghiera che restano ben visibili a lungo. Da questo punto di vista è sicuramente il miglior mid provato finora. Il vetro è uno zaffero piatto e già questo aiuta a tenere sotto controllo i riflessi fastidiosi. Qui però, grazie al trattamento antiriflesso anche sul lato esterno oltre che su quello interno, le prestazioni sono eccellenti. Il lucichio che rimane è quello legato alla finitura solele del quadrante, ma il vetro in molte angolazioni sembra quasi sparire. E' sicuramente in linea con l'ottimo vetro zaffero visto nella recensione del Longini Hydroconquest. La ghiera ha un inserto in ceramica con numeri incisi e riempiti di pasta luminescente. La rotazione ha un blocco di sicurezza, quindi per essere correttamente azionata è necessario premerla contro la cassa. Questa è una caratteristica non così comune sugli orologi attuali. Mi vengono in mente ad esempio Zodiac Super Sea Wolf e Squale 2002. Una volta sbloccata la rotazione è fluida e precisa. Ovviamente è monodirezionale e ci sono 60 scatti. La cassa è un po' una versione riveduta e corretta di quella utilizzata dagli altri Ocean Star. Più grossa, più spessa, ma con lo stesso ottimo livello di finiture. Questo spicca soprattutto sulle anse, dove le satinature, superiore e laterale, sono interrotte dal bisello lucido. Il passaggio da una lavorazione all'altra è netto e preciso. Sul fianco sinistro, interamente satinato, spicca la valvola automatica per il rilascio del legio, sottolineata anche dalla scritta incisa che, a dir la verità, non mi piace moltissimo. Ho già detto varie volte, questa è una caratteristica che risulta un po' inutile per la maggior parte degli acquirenti di questi orologi, ma ciò non toglie che affrontare in qualche modo il problema di questo gas, con valvole per farlo uscire o guarnizioni per non farlo entrare, denoti la vocazione professionale di un diver. Subito sopra la valvola c'è un piccolo foro dal quale si intravede la molla della ghiera, che è stato pensato per drenare l'acqua e non farla ristagnare e quindi dovrebbe proteggere il meccanismo stesso dalla corrosione. A ore 3 la corona, naturalmente a vite, è protetta dalle spallette. La finitura è lucida e presente il logo inciso. La filettatura è molto buona e il serraggio è sempre fluido. Tra l'altro si tratta di una filettatura interna e quindi è meno esposta a polvere e sporcizia. Il fondello ha al centro la decorazione caratteristica di tutti gli altri Ocean Star con la raffigurazione della stella marina, molto bella e ben realizzata. Sulla cornice esterna è ribadita la profondità massima raggiungibile di 600 metri. All'interno di questo mido c'è il calibro 80 nella versione COSC, appunto, e con la spirale del bilanciere in silicio per garantire una maggior costanza delle prestazioni nel tempo, oltre che per avere una maggior resistenza ai campi magnetici. E se già il calibro 80 nella sua versione standard stupisce per la sua regolarità di marcia, qui abbiamo la garanzia della certificazione. Anche sul crono comparatore questo esemplare ha fatto registrare scarti nell'ordine di più 2 secondi al giorno. La frequenza è sempre di 21.600 alternanze all'ora e la riserva di carica è di 80 ore, proprio come sugli altri movimenti analoghi del gruppo Swatch. Ovviamente è possibile la ricarica manuale ed è presente il fermo macchina. Il bracciale è un altro punto di forza di questo Ocean Star. Partiamo dall'estetica. Il design è sicuramente semplice, con maglie a tre elementi, ma il livello di finitura è veramente spettacolare. Oltre all'elemento centrale lucido, infatti, ci sono anche i biselli sui fianchi. Questi impreziosiscono notevolmente il bracciale e rendono più esclusivo l'orologio. Ma anche dal punto di vista tecnico possiamo contare su perni a vite, mezze maglie per una regolazione ottimale e le maglie sono anche molto flessibili l'una sull'altra. A chiudere il tutto, letteralmente in questo caso, c'è un'ottima clasp con finitura satinata e gli immancabili biselli lucidi che nasconde al suo interno un sistema di estensione rapida. Questo è molto efficace e insieme alla presenza delle mezze maglie consente di mettere perfettamente a misura il bracciale. Purtroppo però, come per tutte le altre clasp di questo tipo, una volta estratta l'estensione non è bellissima da vedere. L'Ocean Star 600 è un diver tecnico, pensato per chi vuole utilizzarlo realmente per le immersioni o semplicemente per gli amanti di questo genere di orologi. E quindi le sue dimensioni non devono stupire. Quel che stupisce, invece, è che tutto sommato non risulti sproporzionato neppure su polsi piccoli come il mio da 16 cm. Tutto merito delle anse corte. Il peso, però, si fa sentire decisamente. Il diametro è di 43,5 mm, la distanza da ansa ad ansa è di 50 mm, lo spessore è di 14,5 mm e il peso con tutte le maglie del barciale è di 224 grammi. Qui su YouTube è sempre rischiosissimo concludere un video dicendo che non ci sono difetti, perché poi si scatenano i soliti commenti. Allora, a questo punto mi tocca impegnarmi parecchio. Per i miei gusti, l'unico aspetto che potrebbe essere fastidioso alla lunga è il peso, ma è strettamente legato alla tipologia e alle caratteristiche tecniche dell'orologio. Non sarebbe male vedere un Ocean Star 600 in titanio, chissà. Sempre per mio gusto personale non amo particolarmente la maglia centrale lucida sul bracciale, ma mi rendo conto che questa sia stata una scelta ben precisa da parte di Nido per differenziare ulteriormente questo prodotto dagli Ocean Star 200. Ma se il design piace e si è alla ricerca di un diver tecnico vero e proprio, trovo che questo modello sia da prendere in seria considerazione nella sua fascia di prezzo. E a proposito, il listino è di 1490€. La concorrenza non manca di certo e in realtà trovo che i competitor diretti più agguerriti siano i cugini Tissot Seastar 2000 e Longines Hydroconquest, nei confronti dei quali questo Mido può vantare sicuramente un livello superiore di finiture su casse e bracciale, oltre che la presenza di un movimento COSC. E voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Spero che questo mio contenuto vi sia piaciuto, nel caso non dimenticatevi di lasciarmi un bel like e noi ci vediamo presto con un altro video. Grazie.